Una grave incidente stradale è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale venti tra Santa Croce Camerina e Comiso. Tre i mezzi che si sono scontrati tra loro all'altezza della rotonda che conduce a Scoglitti. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere contorte gli occupanti delle auto coinvolte. Infatti nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi, una Mini One, una Ford Fiesta e un trattore. Sono tre le persone ferite, un uomo e una donna trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria, mentre un altro alla civile di Ragusa. Le auto, per cause ancora in fase d'accertamento, mentre viaggiavano in direzione opposta, si sono scontrate violentemente facendo letteralmente accartocciare le carrozzerie che sono diventate così delle vere e proprie trappole per gli occupanti. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito allertato i soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere tutti gli occupanti feriti. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia provinciale, per capire l'esatta dinamica del sinistro e per poter dirigere il traffico.